Allora, adesso mostriamo il padre all'ottavo, al primo, i capitani stanno arrivando, hanno fatto davvero un grave lavoro, non porteranno più di scena, nel senso che non si deve vivere, ti è messo, c'è la testa tra le spalle, ma se non si può fare, non c'è la testa e si fongono i quali gli dimentesi, i loro vissi, il sorriso di Teresa, Siamo quasi pronti, eh ragazzi, guarda che ci stanno, le squadre prendono le nostre spalle con i loro capitani, quattro giochi bellissimi, Fierusha straordinaria, finale, lava pianca, la zona della giuria, arrivando al giudicato, questo è il conteggi, è l'ultimo gioco, allora, un punto al Pimonte, due alla Toscana, tre alla Sardegna, otto al Friuli che aveva giocato in giorni, dieci a pianeti, abbiamo giocato in giorni, sei a Lenghia Romagna, Lazio quattordici, Lombardia sedici, abbiamo giocato in giorni, vedete il tempo e i punti, quindi questo è il capo. Siamo con il Perugia, a funzione, i punti dell'ultimo Perugia.